Tre. Buonasera a voi qui presenti, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta. Fine della seconda prova, diritto amministrativo, andrò, cari ragazzi, sinteticamente a spiegare una traccia che per fortuna abbiamo già spiegato durante il corso, una traccia classica dove non ci sono questioni ultime, una traccia quindi che richiedeva un inquadramento di respiro partendo anche dai profili istituzionali. Analisi della traccia. Uno, primo profilo, un inquadramento sui regolamenti, in modo particolare la differenza con gli atti amministrativi generali che non hanno contenuto normativo. Seconda domanda che la traccia pone, il sindacato del regolamento davanti al giudice amministrativo. Terzo profilo implicato dalla traccia, il sindacato del regolamento la tutela di fronte al giudice ordinario. Questi sono i tre ambiti tematici da trattare. Andiamoli a sviluppare che cosa ci deve necessariamente essere ai fini della idoneità in un tema del genere, che cosa avremmo potuto aggiungere per avvalorare, per impreziosire il nostro elaborato sulla base degli strumenti che avevamo, che ci eravamo dati al corso. Quindi attenzione a questa differenza, che cosa ci deve essere ai fini della idoneità, che cosa si poteva aggiungere per impreziosire elaborato? Partiamo da quello che ci doveva essere. Innanzitutto l'inquadramento sui regolamenti, atti amministrativi generali a contenuto normativo e quindi la differenza tra il regolamento e l'atto amministrativo generale che non è un regolamento. Tutti i regolamenti, vi ricordate, come abbiamo detto al corso, tutti i regolamenti sono atti amministrativi generali, non tutti gli atti amministrativi generali sono regolamenti. Qual è l'elemento che identifica il regolamento? Il contenuto normativo, il che significa declinando quella locuzione contenuta nel DPR sui ricorsi amministrativi a contenuto normativo, significa astrattezza e ci siamo detti che cosa significa astrattezza, indefinita ripetibilità, applicabilità, disciplina, tipi di rapporti. Secondo profilo, la generalità, la differenza tra la generalità del regolamento e la generalità dell'atto amministrativo generale, quello che non ha contenuto normativo, tutte cose che sappiamo benissimo. Il profilo della innovatività, profilo alla sua funzione costitutiva dell'ordinamento giuridico, il profilo della efficacia del regolamento. Regolamento efficace semper et ad semper, a differenza dell'atto amministrativo che non ha contenuto normativo che consuma i suoi effetti con l'atto applicativo. L'inquadramento sul regolamento in contrapposizione con l'atto non regolamentare. Queste caratteristiche si ripercuotono sotto il profilo della tutela e quindi la seconda parte della traccia. Giudice amministrativo, doppio sistema di tutela. Primo sistema di tutela basato sulla disapplicazione, la disapplicazione del regolamento da parte del giudice amministrativo. Non si può disapplicare l'atto amministrativo non regolamentare ma si può disapplicare il regolamento perché regolamento è una fonte secondaria del diritto. La tecnica della disapplicazione, l'effetto della disapplicazione, regolamento tanqua non asset limitatamente a quella controversia, a differenza di quello che andremo a vedere con l'ipotesi dell'annullamento del regolamento. La disapplicazione è evitabile, ricordate quel profilo che abbiamo messo in evidenza durante la lezione che era interessante da mettere oggi nel tema, il profilo della cosiddetta disapplicazione conservativa utilizzando un'etichetta, cioè quella disapplicazione che consente di evitare il paradosso di annullare un provvedimento amministrativo conforme alla legge. Disapplicando il regolamento si salvaguarda, si conserva il provvedimento amministrativo. Il provvedimento contrasta con il regolamento ma il regolamento contrasta con la legge. La disapplicazione evita l'annullamento del provvedimento, un rapporto di antipatia tra il provvedimento e il regolamento. Questo era un profilo che avevamo trattato che era utile sicuramente inserire in questa tipologia di traccia. dalla tutela della disapplicazione alla tutela impugnatoria. Il regolamento è un atto amministrativo, quindi come tale può costituire oggetto di azione di annullamento, di azione impugnatoria, la tutela impugnatoria. La tecnica, la doppia tecnica, regolamento di regola, volizione preliminare, cioè non incide immediatamente sulla sfera giurale del destinatario, quindi la tecnica della doppia impugnativa congiunta. Avevamo visto, vi ricordate invece l'ipotesi in cui il regolamento è la cosiddetta abolizione azione, quando cioè il regolamento incide direttamente, immediatamente sulla sfera, immediatamente lesivo. In quel caso onere di impugnazione immediata. L'adozione dell'atto applicativo che non rimette in termini per impugnare il regolamento. Onere di impugnazione immediata del regolamento. Che cosa si poteva aggiungere per impreziosire? Si poteva aggiungere, vi ricordate quando abbiamo trattato dei poteri impliciti, quando abbiamo trattato il tema della legalità procedimentale. Quello era un profilo che in questa tipologia di traccia, che parlava di sindacato del giudice amministrativo, quindi richiamando anche il sindacato di legittimità, il regolamento che non è conforme alla legge. Considerato che il regolamento è una fonte secondaria del diritto. Qui si poteva aggiungere il principio di legalità. Il regolamento deve essere conforme alla legge, la legalità come deducibilità, il contenuto del regolamento deducibile dalla legge, le ipotesi in cui il principio di legalità si indebolisce. Abbiamo richiamato la teoria dei poteri impliciti, abbiamo visto gli atti regolatori che costituiscono esercizio di poteri impliciti, regolamenti indipendenti, le autorità indipendenti. Si poteva aggiungere questa tipologia di ragionamento andando a parare sulla legalità procedimentale, su quel discorso che avevamo visto durante la lezione. Questo come nucleo relativo alla parte della traccia inerente al sindacato del giudice amministrativo. Sindacato del giudice ordinario, la legge di abolizione del contenzioso amministrativo, la legge fondamentale, l'articolo 5, la disapplicazione da parte del giudice ordinario a tutela di situazioni giuridiche di diritto soggettivo. Qui, cari ragazzi, si poteva ancora aggiungere, vi ricordate? Si poteva aggiungere, chi lo ha aggiunto ha fatto bene, si poteva avvalorare, impreziosire, dare maggiore consistenza all'elaborato richiamando da un lato la teoria dei diritti indegradabili. Si poteva fare questo ragionamento, chi lo ha fatto ha fatto bene, vi ricordate la lezione, l'abbiamo visto, la logica dei diritti inaffievolibili, i diritti resistenti a tutta oltranza, per cui non c'è potere. Si poteva fare questa tipologia di speculazione. Così come pure, volendo, si poteva aggiungere anche un altro tassello. Vi ricordate quando abbiamo parlato della giurisdizione del giudice ordinario, no? E ci siamo domandati, ci siamo fatti la domanda, la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario? Perché evocando la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, richiamando la materia dell'immigrazione, richiamando la materia della privacy, richiamando la materia delle sanzioni amministrative, richiamando quella tipologia di, rievocando quella tipologia di approccio che abbiamo visto durante la lezione, lì ci si poteva spingere, no? Richiamando quella tesi che ritiene configurabile sulla base della norma costituzionale, vi ricordate l'articolo 113, è la legge che individua quali sono gli organi giurisdizionali, l'articolo 113, è la legge che individua quali sono gli organi giurisdizionali muniti del potere di annullare gli atti amministrativi. Quella norma lascia aperta la possibilità che la legge attribuisca al giudice ordinario una giurisdizione esclusiva, che significa giurisdizione esclusiva? Significa annullamento dell'atto amministrativo, annullamento anche quindi anche del regolamento come atto amministrativo. Questo era un profilo che avendo gli strumenti si potevano inserire in aggiunta nel tema, ripeto in aggiunta, la tesi classica, chi ha messo solo la tesi classica non ha sbagliato, la tesi tradizionale è la tesi secondo cui il giudice ordinario disapplica, quindi disapplica il regolamento a tutela di posizioni di diritto soggettivo. Non aggiungo altro, cari ragazzi, perché abbiamo fatto tutto di questa tipologia di traccia, per cui tra ieri e oggi direi che insomma siamo stati anche fin troppo fortunati, domani mi aspetto qualcosa di imprevedibile perché non possiamo essere sempre fortunati nella vita, non sarà la traccia di amministrativo, cari ragazzi, a fare selezione. Non sarà la traccia di amministrativo a fare selezione. La selezione la si farà sulla base della traccia di ieri che non era semplice, era tutt'altro che semplice la traccia di ieri, soprattutto nella parte applicativa, soprattutto nella parte applicativa. La traccia di domani sarà una traccia complessa, sicuramente complessa di civile, si giocherà domani una partita importante, io non ci sarò a spiegare, io ve la spiegherò perché domani comunque ci vedremo con la diretta, però voi dovrete da soli valutare se consegnare o non consegnare, perché non ci sarà come oggi la possibilità di confronto sulla traccia di civile. Tenete in considerazione questo aspetto, il grosso della partita di questo concorso si giocherà sulla traccia di ieri di penale e su quella di domani di civile. La traccia di ieri non era facile, assolutamente, la traccia di domani non sarà assolutamente facile, cerchiamo di fare un tema di civile ragionato, perché questa è una commissione, lo avete notato dalle tracce che sono state date, è una commissione che vuole proprio testare la vostra capacità di ragionamento, anche la vostra cultura giuridica, sono tracce di cultura giuridica, quella di penale è di cultura prima e poi di cultura giuridica. La traccia oggi è una traccia molto bella, classica di diritto amministrativo, dove il giurista viene fuori, per cui mi aspetto anche domani una traccia di questo tipo. Qualunque dovesse essere la traccia di domani, voi non vi alzate, finché non avete individuato le questioni, non vi siete rotti la testa e non avete provato a fare il tema. Io rimango disponibile per i colloqui individuali, ci diamo appuntamento per la diretta di domani per la spiegazione della terza traccia, un grande in bocca al lupo. Si può fare, si può fare, quest'anno si può fare. Va bene? Vabbè, non so se... Avvicinami proprio perché non si sente. Più dietro? Eccomi. No, io oggi mi sono limitata a fare un po' di colloqui e a consentire a chi è qui presente di espormi un po' le criticità o dei dubbi sul tema. Ecco, quindi per questo non vi ho neanche salutato, però insomma sono sempre dalla vostra parte, la mia presenza c'era, non fisica, non via microfono, però insomma di cuore sicuramente. Un caro saluto è in bocca al lupo a tutti. Grazie, scusami, non so. No, no, vabbè, però... Sì. Però noi pensiamo alla traccia di domani, non al prossimo concorso, poi ci pensiamo al prossimo concorso. Rimango a disposizione, però ci rimettiamo di là, ci mettiamo...